Ciao a tutti, sono Beatrice Scordari e mi trovo qua con Francesco Massa, il presidente di Abeo, che è un'associazione di volontariato che ospita le famiglie dei bambini al gaslini che sono ricoverati o comunque con malattie. Cosa ci può dire delle aree di gioco che verranno prossimamente messe? Abbiamo individuato nei nostri locali che sono vicini al gaslini, siamo a 100 metri da due locali idonei dove mettiamo queste apparecchiature e dove i ragazzi, i bambini potranno venire, non solo quelli che ospitiamo noi ma anche quelli degli altri reparti del gaslini e quelli che sono alloggiati presso le altre associazioni. Noi siamo particolarmente correlati a onco-ematologia, la nostra associazione Abeo Liguria, un'associazione di volontariato, esiste da 42 anni ed è stata fondata da genitori, siamo genitori, per appunto agevolare gli altri genitori che vengono da tutta Italia e da fuori anche dall'estero e per le cure onco-ematologiche durano mesi, sia la parte cruciale all'interno del reparto e poi la parte di diregenza, il regime di dei hospital dove vengono da noi le famiglie e il bambino e poi durante la settimana vengono i medici a misurare i parametri vitali.